Cari ragazzi, vi piacciono le storie? A me sì, piacciono quelle di Bruno Ferrero, ve ne racconto una che si intitola La nuvola e la duna. C'era una nuvola giovane giovane che volava nel cielo insieme alle altre e a un certo punto con le altre attraversa il deserto del Sahara, la mettono in guardia, mi raccomando non scendere, sappiamo che sei curiosa ma non scendere perché qui rischi di morire, stai con noi unita, invece lei disubbidisce, scende giù, è plana, vede questo spettacolo di sabbia dorata, è affascinata e pian piano si avvicina, si ferma dove c'è una duna che le sorride e si ferma con quella, fanno amicizia, si parlano, si raccontano un po' come va, ma qui ce la passiamo tra il sole, il vento, le giornate passano, sì, anche noi su in alto siamo spinti dal vento, giriamo il mondo intero, ma dice la duna qui un giorno d'altro il vento arriverà un po' più forte, mi fa fuori e mi appiattisce, io sparisco, beh anche io dovrò sparire dice la nuvola perché mi trasformerò in pioggia, dovrò cadere e quindi non ci sarò più, morirò. La duna sta un po' lì a sentire questa cosa, pioggia, dice ma noi, per noi dune la pioggia è il paradiso, come la pioggia è il paradiso, sono così importante dice la nuvola, sì perché appena arriva la pioggia spuntano erba e fiori, la nuvola rimane un po' lì ci pensa, dice sì, in effetti girando il mondo ho visto erba, fiori e dice la nuvola potrei pioverti io addosso così, vedrai che non servia niente, non è che servia niente, servia qualcosa, sopra di te potrà spuntare erba e fiori, ma guarda che tu però facendo così morirai eh nuvola se ti trasformi in pioggia, però tu fiorirai dice la nuvola alla duna e così si lasciò cadere diventando pioggia e il giorno dopo su quella duna crebbero dei fiori e crebbe l'erba. Gesù fa un po' così con noi, si comporta un po' come la nuvola con la duna perché vuole farci fiorire, vuole farci riempire il cuore di amore, di cose belle, vuol donarci la sua vita e quindi non non si ferma nemmeno di fronte alla morte, vi ho chiamati amici e non c'è un amore più grande di questo dare la vita per gli amici, quindi Gesù ci considera amici, ci considera un po' come Lazzaro, l'episodio del Vangelo di oggi, di questa domenica dove Lazzaro cade malato e poi muore e Gesù sente compassione per lui, va da lui, va dalla sorella Marta, sorella Maria, vivevano insieme con Lazzaro, porta la sua solidarietà, porta la sua vita a queste persone e risuscita a far ritornare in vita Lazzaro. Certo però un giorno o l'altro Lazzaro sarà poi morto definitivamente, ma Gesù cosa ci ha voluto dire con questo episodio? Che lui è la risurrezione e la vita e dà la vita ai suoi amici e noi vogliamo essere amici di Gesù, vogliamo restare suoi amici per sentire in noi la vita, non la morte, non la tristezza ma la gioia e il suo amore. Nell'angolino di preghiera siamo invitati oggi a mettere un piccolo foglietto con i nostri nomi e magari anche il nome di Gesù, di Lazzaro, di Marte, di Maria, i nomi nostri, i nomi dei nostri familiari. Li mettiamo lì nell'angolino di preghiera per dire proprio che Gesù, per Gesù siamo degli amici che hanno un nome e non si dimentica di ciascuno di noi, anche se dobbiamo attraversare delle prove e dei momenti di fatica come quello che stiamo vivendo. Non dimentichiamo di andare in chiesa e ritirare il piccolo puzzle per completare la nostra scheda del cammino di quaresima. Vi auguro buona domenica, ciao!